Luca Di Masi inizia una nuova stagione qui al Corneliano Roero, grandi ambizioni, organico profondamente rinnovato. Che cosa ti auguri a livello di squadra e a livello personale? Innanzitutto spero che ci sia un ottimo gruppo, ma al momento così sembra. E poi l'importante è mettercela tutta e fare una grande stagione, tutti insieme. La tua esperienza al Bra? Come ti può tornare utile? Che cosa pensi di aver imparato? I primi si spera di non informaturarmi più, non ne posso più. E poi per il resto insieme ai compagni e allo staff lavoreremo tutti insieme per fare una grande stagione, ne sono sicuro. Le sensazioni sembrano positive, abbiamo visto tanti volti sorridenti, un gruppo che parte con le migliori aspettative. Certo, assolutamente. Ci sono delle aspettative veramente grandi. Siamo una bella squadra e sicuramente faremo bene, ne sono convinto. A livello personale, per chiudere, cosa ti auguri? Hai qualche ambizione particolare, qualche obiettivo particolare? Ambizioni ne ho, però preferisco tenerle per me e dare tutto. E poi si vedrà quello che succederà succedendo. Grazie.